La Ryanair cambia rotta. Niente più tagli sullo scacchiero italiano, nuove tratte, soprattutto nuovo max investimento di un miliardo di dollari in Italia. La buona notizia sulle intenzioni strategiche della compagnia low cost più famosa nasce in realtà dal ritiro da parte del governo Renzi della tassa municipale di 2,5 euro che avrebbe gravato sui costi del colosso irlandese. Quali benefici allora per l'aeroporto dell'Umbria? La domanda è legittima, per ora non ha una risposta precisa. Anche perché delle 44 nuove rotte annunciate da Ryanair, 21 gravitano su Roma e Milano e le restanti 23 sugli aeroporti regionali, nel cui elenco però non figura al momento lo scalo perugino. Un flop dunque non è detta, stando almeno all'ottimismo espresso dai vertici di Sase che nelle scorse settimane, dopo la nomina del nuovo presidente Ernesto Cesaretti, ha incassato il ritorno di Ryanair con la nuova tratta Perugia-Catania, attiva da novembre. Ora, assicurano dalla società di gestione dello scalo Umbro, si sta lavorando per implementare la gamma di servizi già presenti. Il programma 2017 sarà annunciato ai primi di settembre e non si escludono buone sorprese. A causa dell'aumento della tassa, poi ritirato, il San Francesco infatti ha perso le rotte Ryanair verso Düsseldorf, Cagliari, Brindisi e Barcellona. La speranza ovviamente, neanche troppo celata da parte della società di gestione, di recuperare in parte le destinazioni perdute. Sul piano di Ryanair interviene anche il consigliere regionale di opposizione Claudio Ricci, che chiede alla giunta regionale quali siano le azioni operative che si intendono in tempi rapidi attivare. Nei riguardi del governo di Ryanair, se si intende, con adeguati cofinanziamenti e collezionando risorse di altra natura, consolidare la presenza del colosso irlandese in Umbria. Anche la giunta regionale, insomma, non può più nascondersi. Serve un piano di squadra, Sase, istituzioni, per ridare slancio allo scalo aeroportuale.